video ricetta del più classico degli aperitivi ovvero lo spritz che cosa occorre prosecco aperol soda arancia e ovviamente tanti cubetti di ghiaccio mettere in due bicchieri d'aperitivo tanti cubetti di ghiaccio aggiungere quindi l'aperol ben freddo versare ora il prosecco ed infine completare i cocktail con uno spruzzo di soda decorare gli spritz con una fetta di arancia